Amici dell'esperto risponde, bentornati da vostro Antonio De Scalchi, ancora una volta con voi per parlare di argomentazioni di impresa, finanza e lavoro. Solitamente noi riceviamo email dove ci vengono chieste le argomentazioni da portare nelle vostre case durante la trasmissione, questa sera vogliamo ascoltare un telespettatore in diretta che avrà sicuramente qualcosa da chiederci, sentiamo chi è in linea e sentiamo che cosa ci vuole chiedere. Signor De Scalchi, buonasera, sono Franco Dapadova, volevo chiedere una cosa per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, come funziona? Sono dipendente di un'azienda metalmeccanica, volevo capire un attimo come si fa per il trattamento di fine rapporto. Certo, le chiedo se non sono indiscreto Franco, se intanto il suo primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, comunque in regola, anche se non è stato con questa azienda, è avvenuto prima o dopo il 1993? Dopo, dopo, è 12 anni che lavoro per questa azienda. Dopo il 1993. Ok, allora, perché le ho chiesto questo Franco? Intanto la ringraziamo per la telefonata. Grazie, grazie, saluto, grazie. Buonasera. Perché abbiamo due tipi di destinazione, per quelli che sono stati assunti in regola in data antecedente il 28 aprile 1993 e appunto come Franco in questo caso per chi è stato assunto in data post 28 aprile 1993. Ci sono dei moduli TFR barra 2 appositi dove bisogna segnalare questo tipo di data importantissima e fondamentale. Franco ci chiede la destinazione del trattamento di fine rapporto. La destinazione è molto semplice, la destinazione del trattamento di fine rapporto può essere o mantenuta in azienda oppure portata a una forma di previdenza complementare. La differenza è questa, se si decide di tenere il trattamento di fine rapporto in azienda, quindi barrare che nella casella dove appunto viene detto che il proprio trattamento di fine rapporto rimanga in azienda e non venga conferito a una forma di previdenza complementare, questo tipo di operazione è reversibile, ovvero un domani che il signor Franco volesse portare il suo trattamento di fine rapporto a una forma di previdenza complementare potrà sicuramente farlo. Attenzione invece, nel caso in cui il trattamento di fine rapporto da subito o anche poi in corso venga portato a una forma di previdenza complementare, questa operazione invece non è reversibile. Una volta che il TFR, trattamento di fine rapporto, viene portato a una forma di previdenza complementare, possa essere una assicurazione piuttosto che non potrà più essere riportato in azienda. Questo è importante perché se voi mantenete il trattamento di fine rapporto presso l'azienda, all'atto di chiusura della cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda è tenuta a liquidarvi il vostro TFR entro 30 giorni o 45 giorni, non ci sono i 6 mesi fantastici che sentiamo da più parti, entro 30 giorni dalla chiusura del rapporto di lavoro o entro 45. Se avete conferito il vostro trattamento di fine rapporto a una forma di previdenza complementare, questa è la soluzione in cui non potete ricevere dall'azienda TFR, ma dovete poi rapportarvi alla previdenza complementare. Occhio che la previdenza complementare 99 su 100 questo tipo di somma l'avrà vincolata, di conseguenza per porterla a sbloccare dovrete aspettare o un lasso di tempo per poterne poi accedere oppure pagare eventualmente una penale. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che in azienda il trattamento di fine rapporto ha la rivalutazione classica, mentre invece magari in una forma di previdenza complementare può maturare qualche cosa di più. Insomma la coperta come la tiri da una parte si scopre, dall'altra invece no, dipende dai vostri gusti, dipende dalle vostre possibilità se avete la volontà, la voglia di mettere da parte qualcosa per il futuro, soprattutto per i più giovani che hanno difficoltà o avranno difficoltà sicuramente ad accedere a un fondo pensionistico. Quindi importantissimo questo aspetto. Queste sono le due cose principali che il signor Franco spero deciderà con calma perché sarà importante, sarà molto importante all'atto della decisione stessa. Anche questa sera abbiamo terminato, io spero e credo che come ogni sera abbiamo soddisfatto la vostra voglia in relazione a argomenti che toccano lavoro, in questo caso piuttosto che finanza, piuttosto che impresa. Non mi resta che darvi l'appuntamento alla prossima puntata dell'Esperto Risponde su Sky, canale 821, ricordando che la nostra casa editrice, Multimedia Broadcasting SRL, ha lanciato un nuovo sito internet, mercurionews.net, che include tutte le notizie di cronaca, di sport, di business e economia che riporta appunto a Business24. Non smettete di mandare le vostre email a redazionechiocciolabusiness24tv.it, un saluto dal vostro Tonio Descalchi e alla prossima puntata dell'Esperto Risponde.